I ricoveri sono in aumento sia in area critica che in terapia intensiva, anche se la percentuale di occupazione in Veneto è la minore in Italia. Il Presidente del Veneto, Luca Zai, in attesa della definizione della fascia di appartenenza della regione, di conseguenza di sapere quali saranno le restrizioni in vita ai cittadini ad atteggiamenti di autotutela. I parametri indicano comunque il picco dell'epidemia in Veneto tra dieci giorni. Il colore della fascia uno se lo deve meritare. Non è che tu puoi bleffare. Però è pur vero, la mia preoccupazione non è avere la fascia verde, è che non vorrei che la fascia verde venga recepita come il semaforo verde, perché non è così. Capite che lo scenario è in continua evoluzione e quindi è fondamentale che tutti noi cittadini adesso veramente pancia a terra, stringere i denti e fare in modo di evitare che si diffonda il contagio, perché un passaggio di fascia, a prescindere da quale sia la fascia di partenza, ci dà restrizioni. Per operare al meglio in un momento di crisi come questo, la Giunta ha deliberato un comitato di crisi per interventi mirati ed efficaci. Abbiamo voluto deliberare un comitato di crisi. Siccome in questa fase è giusto fare un grande lavoro di squadra, ci sarà un comitato di crisi per il coronavirus che farà sintesi assieme a noi delle misure. Quindi condividiamo questa esperienza, questo percorso con un board, un esecutivo, un board, executive board, come direbbero gli inglesi. Tra i 21 parametri che classificano una regione, il rapporto tra tamponi e positivi nel caso del Veneto bisogna considerare anche quelli rapidi. La regione non intende rinunciare al tamponamento e per questo sta cercando di coinvolgere anche i veterinari. Non c'è nulla di trascendentale pensare di poter fare un percorso anche assieme ai veterinari, che qualora fossero disponibili noi siamo disposti ad affrontarlo. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per fare tamponi.